Trovate in redazione per un nuovo appuntamento con Maria Parente, il quotidiano La Notte Online. Questa mattina ci spostiamo alla Corte Europea dei Diritti Umani, la quale con una recente sentenza sancisce il diritto del datore di lavoro di poter installare anche ad insaputa dei suoi dipendenti telecamere sul posto di lavoro, qualora abbia fondato dubbio che lo stiano derubando. Per saperne di più vi rimando al sito www.lanotteonline.it, vi ricordo la mail di redazione redazione.lanotte.gmail.com, continuate a seguirmi, a scrivermi e segnalare argomenti di vostro interesse, vi ricordo comunque di continuare a seguirmi anche sul canale YouTube La Notte Online. Per ora è tutto, vi auguro buon proseguimento e grazie come sempre per la vostra attenzione.